Ciao amici, dal mio studio un capitolo delle videoconsulenze. Mi raccomando, mandatemi le vostre videodomande a questo numero che vedete in sovraimpressione e io le pubblicherò sul mio canale e vi risponderò. Questa è la legge. Avvocato Creco, buongiorno, mi chiamo Blumetti Mario. Senta, io vorrei sottoporle una mia questione. Cercherò di essere breve, ma nel modo migliore possibile farle capire qual è la situazione. Sono un condomino e tempo fa, a causa di perdita di lavoro, sono rimasto indietro con delle spese condominali. In un'assemblea condominiale ci siamo proposti, sia io che la moglie, di ottemperare a quelli che sono i lavori di pulizia delle scale per quanto riguarda la moglie e di giro dei sacchi da parte mia. Ora, con il fine di produrre una fattura in regime forfettario, produrre questa fattura per fare in modo che si pagassero questi lavori. Dopodiché, con il consenso in maggioranza in assemblea, il compenso derivato da questi lavori di pulizia e del giro dei sacchi veniva totalmente rigirato all'amministratore per poter andare a compensare quelle che erano le mancanze da parte mia per quello che mi mancava di pagare. Questo lo sto facendo da diversi anni. Ora, in tempo di Covid, ci sono stati un po' di problemi, nel senso che la moglie era a casa lavorando in un albergo e è andata in cassa integrazione, il mio stipendio è quello che è, io sono un semplice addetto alla reception con un contratto multiservizi, non mi sono mai fermato nel fare i lavori, sia la moglie che io abbiamo sempre comunque continuato a fare questi lavori ma da settembre a febbraio, oggi è il 28 di febbraio, l'amministratore non mi sta pagando le ultime quattro fatture mi ha anche chiamato dicendomi che al momento era senza fondi per cui i pagamenti da parte sua non erano possibili io, conoscendo il problema della mancanza di denaro mi sono proposto nel continuare senza bloccare i lavori che sto facendo sia io o la moglie e dicendogli che comunque non era un problema ora, secondo lei mi sto comportando nella maniera giusta oppure dovrei, tra virgolette, pretendere il pagamento del mio e della moglie dell'operato che facciamo per poter far sì che le somme dovute io continui a rigirarle in toto cioè in tutto e per tutto all'amministratore per poter far fronte a quelle che sono le mie spese condominali arretrate io la ringrazio seguo molto i suoi video le faccio i miei complimenti perché spiega in maniera impeccabile quelli che per noi comuni mortali possono essere degli ambiti molto complicati e spero che voglia prendere in considerazione questa mia richiesta e la ringrazio grazie, grazie, grazie mille si può fare il testamento al computer? il testamento deve essere necessariamente scritto a mano pertanto non è possibile scriverlo al computer per poi stampare e firmare il foglio anche questo è spiegato sulla legge per tutti il nuovo libro per Gribaudo, gruppo Feltrinelli in cui troverete spiegati i vostri diritti e i vostri doveri lo potete trovare in tutte le librerie oppure su Amazon questa è la legge allora, il nostro amico rimasto senza lavoro e quindi non più in grado di far fronte alle quote condominali si è reso disponibile a fare una serie di lavoretti come la pulizia delle scale e la raccolta dei bidoni della spazzatura in cambio dell'esonero dalle suddette spese ci chiede quindi se questa offerta che a breve verrà sottoposta al baglio dell'assemblea sia plausibile o meno si possono quindi compensare i debiti condominali con dei lavori? cerchiamo di capire cosa dice la nostra legge in materia di pagamento delle spese condominali la regola stabilita dall'articolo 1123 del codice civile è quella secondo cui tutta la ripartizione delle spese deve avvenire tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali tabelle che a seconda del bene o del servizio può attribuire più millesimi ad alcuni condomini in ragione del maggior uso che gli stessi fanno delle cose comuni pensate ad esempio alle spese per l'ascensore che gravano maggiormente su chi abita gli ultimi piani bene, questa regola può essere modificata solo con il consenso di tutti i condomini in buona sostanza per esonerare un condomino dal pagamento delle spese condominali è necessaria l'unanimità e non la semplice maggioranza quanto appena detto si ripercuote sulla possibilità per l'assemblea di sollevare un condomino dal pagamento delle quote condominali in cambio di lavoretti per il condominio stesso come ad esempio la pulizia delle scale o la potatura delle piante se non c'è il voto favorevole di tutti gli inquilini un'ipotesi del genere è impossibile per superare il problema dell'unanimità c'è una seconda soluzione il condomino dovrebbe adoperarsi per concludere un contratto con il condominio per gestire magari il servizio di pulizia delle scale e altre attività normalmente appaltate a soggetti esterni come ad esempio il giardiniere il che andrebbe regolarizzato anche da un punto di vista fiscale emettendo ricevute di prestazione occasionale o fatture a seconda del tipo di importo e della fiscalità del soggetto a questo punto si profilerebbero due flussi autonomi di pagamento quello dal condominio al condomino con cui verrebbero retribuiti i lavori eseguiti da quest'ultimo e quello dal condomino al condominio per il pagamento delle spese condominali naturalmente la partita di giro può essere risolta anche tramite una semplice compensazione contabile tra le due poste con eventuale conguaglio a credito o a debito a favore dell'uno o dell'altro a seconda dei rispettivi crediti e debiti bisognerà prestare attenzione che il condomino lavoratore non risulti dipendente del condominio circostanza che farebbe altrimenti scattare gli oblii contributivi in capo al condominio con conseguente responsabilità anche dell'amministratore e l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme in materia lavoristica potrebbe però succedere che il condominio non possa più pagare il condomino lavoratore per assenza di fondi cosa potrà fare allora quest'ultimo? in teoria il mancato pagamento da parte del condominio di un debito maturato con il condomino lavoratore per la prestazione che questi ha svolto non toglie il suo dovere di versare regolarmente le quote condominali come vi ho detto si tratta di obblighi di diversa natura ma trattandosi di due crediti liquidi ed esigibili è possibile la compensazione in buona sostanza il condomino creditore del condominio che non ha ricevuto il pagamento per le prestazioni svolte può dichiarare di voler compensare il proprio credito con il debito dovuto per le spese condominali senza che l'assemblea possa opporvisi l'estinzione sarà integrale per entrambi i debiti ma solo se essi hanno lo stesso importo altrimenti resterà da regolare l'eventuale differenza a favore dell'uno o dell'altro abbiamo finito anche questo capitolo delle videoconsulenze mi raccomando ricordate il numero in sovrimpressione per mandarmi i vostri quesiti ricordatevi che li pubblicherò su questo canale insieme alla mia video risposta e non dimenticate la parola magica bravi questa è la legge questa è la legge ciao amici se vi interessa sapere cosa dice la legge come va interpretata cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti iscrivetevi al mio canale questa è la vera legge grazie a tutti grazie a tutti